L'ondata di caldo di questi giorni non sta mettendo ad una prova solo noi umani, ma anche i nostri amici animali stanno risentendo delle temperature delle prime giornate di luglio. In tutta Europa lo staff di diversi zoo, tra cui il Bioparco di Roma, ha deciso di adottare alcuni accorgimenti speciali per aiutare gli animali a sopportare meglio queste giornate. E in aggiunta all'abbondante quantità di acqua già a disposizione degli animali, il personale ha deciso di distribuire ghiaccioli di frutta e verdura, che oltre a mantenere gli ospiti dello zoo freschi e divertiti, offre un ulteriore intrattenimento per tutti i visitatori che possono osservare fuochi, oranghi, orsi e tigri alle prese con il loro dolce rinfrescante.